luk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono luk e benvenuti in un nuovo episodio di questo gioco pauroso dicono ancora meno mi ha fatto paura bene dovrebbe essere tutto a posto ragazzi dovreste vedere tutto tutto la grafica in there oh madone qua c'era la ciccione qui c'è una porta nada ma io non c'ho più proiettili cavolo tenga fuori la pistola in mano mi dite cosa devo fare ragazzi porca trota dai scoppia io so che questi scoppiano eh titelo ho detto che scoppiavano porca trota ma come dice prem return tasto 4 leggiamo tutti i libri per cui leggiamo un po' di pagine così a caso ok sono tre i libri giusto tanti punti che leggo ragazzi in inglese non so niente oh che brutta foto oh che brutti ok abbiamo letto tutti i libri dai apriti però porca trota fai qualcosa questo è chiuso questo è chiuso oh madonna chi è? un topo dai apriti però ah guardate ragazzi guardate porca trota tre ore che giro guardate cosa dovevo fare porca trota porca trota questi si rompono no ciao ma io lo posso uccidere si in poche parole in questo gioco ragazzi sono tutti contro di noi però possiamo scegliere se uccidere tutti o no più uccidiamo più diventiamo cattivi abbiamo la reputazione da cattivi che cazzo dove è andato? madonna vieni chi? vieni chi? madonna odio queste voci vieni qua ciccione ragazzi mi sto leggermente caccando sotto leggermente eh oh ancora sto coso aiuto oh 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 che cavolo fai? scappato basta qua c'è una porta ah ok 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 scusate ragazzi arrivo ecco c'è chi scusate l'introduzione e voilà poi poi sento rumori strani sento oh oh ma chi è che parla ragazzi mi sto leggermente cagando sotto ma leggermente due batterie queste le batterie ci serviranno per la luce se vedete in alto a destra c'è il simbolo della torcia che si sta consumando premi 4 e mount labber ah ok per arrampicarci sulla scala qua è chiuso io voglio dei proiettili porca trota ragazzi voglio la pistola che cavolo vuoi che cavolo vuoi che cazzo un tappeto ragazzi guardate il cane con le gambe aperte un tappeto che brutto ok ho ucciso il cane mi sono sporcato la mano di sangue porca trota mi fa piacere ragazzi che vi piace il gioco a molti di voi e si è un gioco vecchio però molto bello molto bello molto bello devo scendere qua bah no ma da qua sono arrivato pirletta pirletta sono arrivato da qua oh io sto morendo sto morendo mi servono le pasticche ecchi trecchi grazie dove devo andare dove devo andare pasticche oh grazie ho trovato una via ho trovato una via ho trovato una via mi sto cagando sotto il telefono pronto? vorrei un taxi grazie ah ti chiudo il telefono in faccia non capisco un cazzo di quello che dici una scala oh che è ah si questa è mia moglie mia moglie nel gioco ragazzi eh no non sto scherzando ok 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 un bel cazzo perfetto ragazzi questa è casa nostra questa è casa nostra che cazzo posso cucinare devo rifare questa è casa nostra eh che spaventale oh odio i bambini nei giochi di paura odio i bambini io odio i bambini madonna che casino cosa c'è chi trento chi oi una vasca una vasca una vasca un cesto un cesto telefono pronto pronto arrivo arrivo ma hanno chiuso il telefono in faccia sapete perché ragazzi perché prima glielo ho chiuso io il telefono in faccia e adesso me l'ha chiuso loro ok mi dice di leggere le note mi dice di leggere le note ah no scusate devo fare il tasto 2 e poi il 4 ok sono 2 ma mi dice di leggere si madonna che spavento madonna che spavento madonna che spavento madonna ma ha caperto ragazzi hanno ucciso mia moglie per cui io dovevo scoprire qualcosa i bambini oh terremoto ragazzi 5.1 ah stai zitto ho aprisciute la porta voglio uscire da chi dimentico io perché hanno richiuse le porte ancora questo ragazzi ricordatevi quello questo qua è quello dell'inizio si è lui lui quello senza un occhio quindi e quindi e quindi ragazzi direi che anche per oggi è tutto non mi sa di no che è successo che è chi è chi è oh che sta succedendo che sta succedendo hanno aperto oh madonna madonna eh oh bene ragazzi direi che anche per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video da Luke è tutto ciao a tutti ciao a tutti